Con le medie imprese lucchesi sono già proiettate nel 2024, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha lanciato un focus su 194 ditte partendo dall'accesso al credito. Dopo Natale, la doppia rotatoria alla Madonnina, il Comune di Capanno, riannuncia l'inizio dei lavori per gennaio, via anche l'ultimo semaforo sulla Pesciatina. La passione di Puccini per il caffè che è da sempre fedele compagno di tanti artisti, così è stato anche per il grande maestro al punto da ispirare una pubblicazione e anche un nuova roba. Lo sport bellissima di notte lucchese in semifinale, i rossoneri giocano una gara stupenda, vincono una 0 ad Avellino, ottenendo un'altra storica qualificazione in Coppa Italia, di fronte a 70 tifosi rossoneri martedì, il sorteggio con Padova, Rimini e Catania nell'urna. Ciocco e mountain bike accoppiata vincente anche nel 2024 sul Colle di San Quirico, spettacolo con le ruote grasse, sabato 27 e domenica 28 luglio, gli italiani giovanili junior di Short Track and Eliminato. Ben trovati in nuova edizione del TG Noi, da Giulio Del Fiorentino in studio con la collaborazione tecnica di Marco Cervelli. Si parte con le notizie legate all'economia, dati interessanti sull'accesso al credito nel sondaggio realizzato da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nelle province di Lucca, Massacarrara e Pisa. Le piccole e medie imprese delle province di Lucca, Massacarrara e Pisa hanno dimostrato quest'anno robustezza finanziaria, come evidenziata da un recente studio di Banca Impresa 2023, in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e con l'Istituto di Studi e Ricerche su 194 imprese. Nel complesso, 8 aziende su 10 delle tre province è stato in grado di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Tra queste, la maggioranza, il 51%, si avvalza dei mezzi propri, mentre il 29% ha fatto ricorso a prestiti da banche. Nonostante il contesto economico si sia indebolito nel corso del 2023, il 38% delle aziende segnala un aumento dei propri fatturati. Il 30% delle aziende ha ottenuto un nuovo credito, impiegato principalmente per investimenti, 60%, e per la gestione delle spese correnti e la liquidità, il 34%. Questi dati riflettono una diversificazione delle strategie finanziarie adottate dalle piccole e medie imprese, indicando un approccio prudente. Il ricorso a mezzi propri suggerisce una gestione oculata delle risorse interne, mentre l'accesso a prestiti testimonia la consapevolezza delle opportunità offerte dal sistema finanziario. I dati del sondaggio, afferma il Presidente della Camera di Commercio Tamburini, segnalano una discreta tenuta delle finanze e delle imprese ed un'evoluzione positiva dei fatturati. Per contrastare certe dinamiche, conclude, abbiamo recentemente canalizzato più di un milione di euro di economie per scorrere le graduatorie dei bandi destinati a supportare gli investimenti. Andiamo sulla Piana di Lucca, importantissima opera infrastrutturale che partirà nel mese di gennaio al Via ai lavori per la doppia rotatoria alla Madonnina. Sono stati aggiudicati i lavori per una delle più importanti opere infrastrutturali degli ultimi anni per Capannori. Subito dopo le feste inizierà infatti l'intervento per la realizzazione della doppia rotonda all'incrocio tra Via Pesciatina, Via della Madonnina e Via dell'Ave Maria allunata, attualmente regolato da un semaforo. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di due rotatorie, la prima tra Via Pesciatina e Via della Madonnina, la seconda tra Via della Madonnina e Via dell'Ave Maria. L'opera sarà completata da un parcheggio pubblico, da un collegamento per le ciclabili e da un marciapiede. L'investimento è di circa 700 mila euro, di cui 530 mila a carico del comune e restanti 180 mila della provincia. Questa settimana abbiamo affidato i lavori per la realizzazione della doppia rotatoria della Madonnina e quindi dopo le feste inizieranno i lavori. Con quest'opera mandiamo in pensione l'ultimo semaforo della Pesciatina nel comune di Capannori. Finalmente, grazie all'impegno di tante persone siamo riusciti ad arrivare a questo grande risultato. Rimaniamo a Capannori dove il comune ha da tempo aperto una sorta di sportello whatsapp con un numero da contattare per rimuovere i rifiuti abbandonati sul territorio. Una recente indagine demoscopica ha evidenziato che il servizio è decisamente apprezzato dai cittadini. Risolvere una segnalazione entro 48 ore. E' questo il nuovo obiettivo per la chiappa rifiuti. Il servizio di cura del territorio ideato dall'amministrazione Menesini e realizzato da ASCIT per migliorare ulteriormente un servizio fortemente apprezzato dai cittadini di Capannori. In base alla Customer Satisfaction compiuta da Demopolis sui fruitori del servizio. A chiappa rifiuti infatti si dimostra un vero amico dei capannoresi ed è lo strumento operativo più apprezzato dagli utenti. A promuoverlo è l'86% di chi l'ha utilizzato. A chiappa rifiuti quindi funziona e oltre i due terzi dei fruitori dichiarano che il problema segnalato è stato risolto del tutto. Rispetto alla tempistica degli interventi, solo il 10% lamenta un ritardo del servizio rispetto alle attese. Per utilizzare il servizio basta inviare un messaggio WhatsApp al 348 600 1346 segnalando gli abbandoni di rifiuti sul territorio comunale di Capannori. Siamo soddisfatti che l'86% dei cittadini di Capannori promuove il funzionamento del servizio della chiappa rifiuti rispetto al quale ci diamo anche l'obiettivo di ridurre il tempo di intervento per il recupero degli abbandoni da parte di Ascit e soprattutto resta fermo l'obiettivo di offrire ai nostri cittadini servizi semplici, gratuiti e che migliorino la vita quotidiana delle persone anche nei prossimi anni. Il prefetto di Lucca Giuseppe Scaduto ha fatto visita alle fiamme gialle lucchesi, alla caserma Puccini, sede del comando provinciale, accolta dal comandante colonnello Marco Querchio, ha avuto un incontro con tutti i comandanti delle parti operativi e tutti i finanziari. L'incontro è stata l'occasione per parlare dell'azione quotidiana svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto a ogni forma di illegalità economica finanziaria. Inoltre il prefetto ha visitato anche la sala operativa del numero di pubblica utilità 117. Adesso parliamo di caffè o meglio della passione che aveva per questa bevanda il maestro Giacomo Puccini, una passione che ha accompagnato tanti artisti e che ha ispirato da una parte un volume e dall'altra anche un nuovo aroma. Il caffè è da sempre fedele compagno degli artisti un catalizzatore per l'ispirazione. Con l'arte, o meglio la musica, ne nasce una corrispondenza di amorosi sensi. Così è stato anche per il grande maestro Giacomo Puccini, che era solito comporre dalle dieci di sera fino a mattina, per tenersi sveglio tra le sue innumerevoli scartoffie, di caffè ne consumò parecchio. Da questo spunto e da tanti altri aneddoti nasce un'intuizione tutta lucchese di dedicare un doppio omaggio al grande compositore a cento anni dalla morte, una speciale miscela di caffè a lui dedicata e un volume sulla passione che lo legava a questa bevanda ispiratrice di creatività. Aromatica Armonia è il volume scritto da Maurizio Sessa ed edito da Pacini Fazzi. L'artefice di questa iniziativa è Caffè Bonito, in collaborazione con la casa editrice lucchese. Abbiamo fatto un focus su quello che è quello che noi facciamo al caffè e chiedendo, informandoci un po' in giro, abbiamo trovato una corrispondenza che Puccini intratteneva regolarmente con Caselli, vecchio proprietario del bar Caselli in fillungo, poi diventato caffè di simo. Dentro questa corrispondenza Puccini chiedeva a Caselli di fornirgli del caffè moca buono con del porto. Da lì ci siamo messi al lavoro, abbiamo provato a ricreare questa miscela Aromatica Armonia che poi l'abbiamo chiamata per omaggiare il maestro e parlando con Francesca ci è venuta in mente di fare questa ricerca grazie a Maurizio Sessa. Ho cercato in questo percorso, è stato anche lo spunto per ripercorrere anche la biografia di Puccini, visto sotto quest'ottica, perché poi abbiamo dei riferimenti precisi al caffè in Tosca e in Fanciulla del West e poi c'è questo aneddoto legato agli esordi di Puccini che quando lui presentò le villi non avevano l'abito nero diciamo di ordinanza, diciamo così, e indossò un abito color caffè e dopo tanti anni ricordò questi episodi. Adesso parliamo dell'Università della Musica di Lucca, il nostro conservatorio Boccherini dove sono in aumento le iscrizioni ma anche le collaborazioni internazionali. Silvia Soniolo. Formazione, produzione e ricerca. È un bilancio positivo quello del 2023 per il Conservatorio Boccherini che su questi tre pilastri fonda interamente la sua attività con numeri che danno slancio a nuove iniziative e progetti per il prossimo anno. Intanto si rinnova il consueto appuntamento con il concerto di Natale con l'orchestra del Conservatorio e quattro giovani direttori sul podio. L'iniziativa, con uno sguardo ai risultati ottenuti nel corso dell'anno ma anche al futuro, è stata presentata dal direttore Gian Paolo Mazzoli e dalla presidente Maria Talarico. È un bilancio positivo per il Boccherini, in un anno non semplice perché è il primo anno che siamo conservatori e questo comporta una serie di adempimenti nuovi e un impegno lavorativo veramente importante. Però abbiamo chiuso con un considerevole aumento delle domande di ammissione e anche con l'attivazione di tre nuovi corsi di laurea, maestro collaboratore, musica applicata all'immagine e musica da camera. L'abbraccio in musica alla città per fare gli auguri di buone feste come da tradizione del dicembre lucchese è in programma per sabato 16 dicembre all'auditorium di Piazza del Suffragio, protagonista la musica di un grande compositore contemporaneo, l'eroe Anderson, autore di alcuni dei più bei brani natalizi mai scritti. Un'opportunità per i giovani direttori di dirigere davanti ad un pubblico attento e competente. A seguire si terranno la premiazione e l'esibizione di una giovanissima allieva, la violinista Benedetta Mignani, vincitrice del premio Vittoria Alata Marianna Bottini. Il concerto sarà preceduto dalla presentazione del nuovo numero, il 14esimo, della prestigiosa rivista musicologica Codice 602, diretta da Sara Matteucci. La cronaca, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina alle 7 sulla circonvallazione a Lucca in Viale Carducci per un incidente dove una persona è rimasta incastrata nelle lamiere ed è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. L'intervento dopo lo scontro fra un'auto e una microcar si è concluso dopo oltre un'ora sul posto alla Polizia Municipale di Lucca per tutte le operazioni di competenza. Adesso andiamo in Valle del Cerchio. Per Castelnuovo Garfagnana la festa di Santa Lucia rappresenta una giornata particolare durante la quale mantenere viva la tradizione dell'omonimo rione, compresa quella del dolce mandolata. La pioggia battente non ha scoraggiato quanti sono voluti essere presenti alla prima delle due messe che sono state celebrate nella chiesa di Santa Lucia nell'omonimo rione di Castelnuovo Garfagnana. Come ogni anno il 13 dicembre in questo rione di Castelnuovo si celebra la santa protettrice della vista. Ad ufficiare la liturgia Monsignor Angelo Piolico, adiovato dal seminarista Angelo Ferrero. Per i castelnovesi partecipare a questa messa è un appuntamento da non perdere. Nel corso degli anni gli abitanti del rione hanno sempre mantenuto viva, anche in questa occasione, la tradizione della mandolata. Un tipico dolce che viene preparato nei giorni precedenti che necessita di una lavorazione molto particolare e che unisce tra gli altri due ingredienti principali, miele locale e grilli di noci. Anche quest'anno in tanti nel corso della giornata si sono recati nel rione per ritirare il classico dolce di Santa Lucia. Giusto sottolineare che, grazie all'associazione Aidos Garfagnarti, in questi ultimi anni si è animato questo rione con molte iniziative. Oltre all'acquisizione dell'abitazione del pittore Gino Vertoncini, è nata anche un'altra associazione, Arte e Tradizione, Orione da Mare, che si occupa di mantenere proprio l'antica tradizione della mandolata di Santa Lucia. Bene, io mi fermo qua, ma rimanete con noi perché fra poco c'è lo sport.